Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e siamo qui per i risultati del contest. Sono molto contento, ci sono stati 12 partecipanti, quindi ci saranno in palio due, cioè ci sono, saranno per essere vinte due chi, quella di Telegrace da Imore Edition e quella di Magica. E sono stato davvero molto contento dalle mail che ho ricevuto, sono state alcune mail davvero molto belle e sono stato contento di fare questo contest anche per sentire un po' gli iscritti e cosa avevano da raccontarmi. Quindi andiamo subito a sorteggiare un numero tra 1 e 12, qua sono su random.org per avere appunto un numero completamente randomico e casuale e qua ho fatto un nuovo documento in cui ho fatto l'elenco, diciamo, di tutti i partecipanti in ordine per quando hanno mandato la mail. Quindi faccio un primo sorteggio, vediamo chi partecipa, chi vince. Il numero 8, che corrisponde a Xander9000Able, cioè il nostro carissimo amico Alessandro. E vediamo il prossimo numero, il secondo vincitore. Di nuovo il numero 8, quindi non possiamo farlo perché mi dispiace Alessandro, ma hai già vinto un premio, quindi uno c'è. Il numero 7, che invece è Biagio Luccio Gaming 98. Quindi questi sono i due vincitori del premio. Per questione di privacy ho preferito oscurare gli altri nomi dei partecipanti, tranne quelli dei vincitori che vedrete appunto come unici non offuscati per appunto evitare che qualcuno si lamentasse, insomma, che fosse scritto il suo nome. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo contest e vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. In questo periodo ho avuto un po' di problemi con i caricamenti, ma cerco di fare il possibile, insomma, fin tanto che non passa la sessione esami. Ciao a tutti! Ciao a tutti!